Ciao! Nome? Matteo. Età? 22. Professione? Professione studente universitario. Dove ti vedi tra 5 anni? A fare l'occupazione che ho sempre desiderato. Lavorare in radio. Se il tuo paese fosse in difficoltà, te ne andrei scritto per necessità ovviamente. Ciao! Sì, se fosse proprio l'ultima spiaggia me ne andrei. L'Italia in difficoltà, perché le mani? Perché devo proseguire il mio corso di studi e tentare con le mie forze di arrivare dove voglio. Un sogno? Scappare di casa e tentare di conquistare il mondo, ma come vedi? L'esperienza più strana della tua vita? Avere una famiglia, una condizione economica stabile ed essere felice per il lavoro che faccio e per il tutto il resto. Mettercela tutta con le proprie forze e cercare di andare avanti ed affermarsi. Ciao! Proviamo prima con la mia strada, poi proviamo con le altre. Ci deve essere sempre un equilibrio, se no... Grazie! Grazie!